buongiorno amici eccoci di nuovo qua sul mio canale quest'oggi vorrei provare a realizzare delle cialde da utilizzare come base per le preparazioni in sostituzione ai piatti delle cialde chiaramente commestibili e quindi che poi potranno essere utilizzate come sostituto del pane in questo momento sto scaldando la piastra e ho appena realizzato il composto adesso vi faccio vedere tutti gli ingredienti a più tardi ecco questa è la mia nuova piastra è dotata di un regolatore di accensione con 22 luci per segnalare la preparare quando è calda e quando no c'è un gancio di apertura e questa è la piastra leggermente unta perché il primo utilizzo quindi ho utilizzato il mio pennellino in silicone aiutata da un olio spray in questo caso l'olio spray l'ho realizzato io con olio di girasole e qua dentro invece ho riusciato leggermente a riposo un composto fatto di farina il mio burro di mandorla i bianchi d'uovo e un pizzico di sale lavorato energicamente con la spatola adesso andrò a metterla all'interno della nostra cialdiera vediamo il risultato un po' di Grazie. Ecco sono trascorsi circa tre minuti e mezzo, io vedo che fuma quindi ho iniziato a osservare all'interno, la cialda è pronta, mi aiuto con una spatola perché è molto calda. In questo caso la preparazione è uscita bassa, piccolina perché ho messo poco composto però è chiaro che mettendone di più si può ottenere un risultato sicuramente migliore. In questo caso vediamo appunto la nostra cialdina, molto carina, possibile utilizzarla come base per riempire con delle mousse o con delle creme dolci o della frutta fresca o una pallina di gelato. Direi che come prima prova e primo esperimento sicuramente è riuscito più che soddisfacente. Vado avanti a prepararne qualcuna e a più tardi, ciao! Quest'oggi avevo voglia di preparare un po' di cose quindi ho realizzato anche un impasto per il pane senza glutine utilizzando una farina mixed tea, quindi una farina apposita per le preparazioni senza glutine e il lievito shark, il lievito che si utilizza normalmente. Ho aggiunto solo tre cucchiaini di proteine in polvere per vedere la consistenza se dovesse cambiare. Credo di realizzare due stampini a mo' di plum cake e un paio di pagnotte per poterle tagliare e affettare. Adesso lo impasto. Allora, non so chi conosce questo tipo di preparazioni. In realtà l'impasto è molto differente rispetto alle preparazioni tradizionali, quindi lo lavorerò pochissimo. Solamente appunto sollevo e metto all'interno dello stampo. È bello soffice, bello spumoso. Lo stampo l'ho sempre oliato come prima con un pochino di olio di girasole. Ecco, ho un po' fatica a scendere perché è ancora un po' elastico. Cerco di metterne almeno tre quarti all'interno dello stampo. Ok, adesso poi ve lo mostro. Questa è la quantità che ho messo. Adesso si stende all'interno dello stampo. E con le mani leggermente unte faccio proprio due pagnotte senza lavorarle molto. Prendo proprio il composto, lo appallottolo leggermente sulle mani e lo posiziono sulla carta senza doverlo lavorare troppo. Ecco, dovrebbero venirne tre. Ho pensato due, invece riesco forse a farne tre. Questa forse viene un pochino più piccolina. Vedete che appiccica veramente tanto come impasto. Lascio cadere così non la tocco troppo. Ok, adesso è solamente il tempo di mettere in forno. Ecco qua. Oggi è terminata la giornata in cucina, almeno per adesso. Ho sfornato i miei panini, questi piccoli paninetti che avevamo detto prima. Vi faccio vedere l'interno. E' ancora, vedete, fumante, ma bello soffice. Potevo, credo, farli cuocere ancora un pochino, però direi che non mi dispiacciono. E invece come piatto principale oggi faccio questo piatto completo. C'è dell'insalata, avocado con semi di sesamo, della pasta integrale e delle lenticchie cotte in umido con il garam masala. L'insieme è un piatto unico, un piatto gustoso, un piatto ricco e anche abbastanza abbondante. Quindi probabilmente farò un po' di fatica a mangiarlo tutto. Però diciamo che questo è il piatto della giornata. Ho ancora in forno il pane a cassetta, anche se in realtà, vedete, l'ho già sfornato, perché ho preferito tirarlo fuori e farlo cuocere senza lo stampo ancora qualche minuto. Adesso comunque lo faccio vedere. Gli stampi sono riusciti veramente puliti, si possono anche riutilizzare altre volte. Ecco, ad esempio, la scelta di utilizzare degli stampi monouso, o comunque in alluminio, è proprio determinata dal fatto che i prodotti senza glutine dovrebbero essere cucinati in stampi separati, proprio per evitare contaminazioni con la farina tradizionale. Anche per quanto riguarda i panini di prima, se ne ho fatto vedere, avevo messo la carta forno proprio per isolare quello che era la teglia, che magari viene utilizzata anche per altre volte, solamente per questa cosa. Nel mio caso particolare non ci sono problematiche di celiachia, quindi non c'è una problematica determinata dalla contaminazione crociata. Ho semplicemente la preferenza in alcune giornate a non utilizzare prodotti a base di glutine. Non prediligo prodotti già preparati, quindi una volta ogni tanto, quando li preparo, uso solo questi accorgimenti, ma non ci sono problemi. Vi faccio vedere quindi in forno. oramai sarà completato. Eccolo qua. Scusate la vampata. Prendiamo... Ho perso il canovaccio. Un istante. Ecco qua. Tiro fuori il mio bel panino. E' veramente bello da vedere. Dorato, croccante. Sono veramente contenta. Per essere una prima esperienza è ottimo. provo a tagliarlo. Si sa perfettamente che il pane da caldo non sarebbe da tagliare, però giusto per dare un'idea che rumore, che fragranza. So se l'avete sentito. E' veramente, veramente un piacere. Sono soddisfattissima. E niente, adesso mi dedico al mio pranzo e alla prossima volta. Ciao amici. Non dimenticate di mettere un like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale su YouTube. E non dimenticate di andare a guardare la tata di cucina sul blog. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.